Gli alieni hanno invaso la terra. Come dei sopravvissuti dobbiamo riuscire a resistere a fare delle missioni. In Earthfall Invasion si può giocare in quattro modalità online, missioni collaborative, ovvero quattro giocatori contro gli A del computer. In questo caso adesso io proverò da solo, quindi gli altri membri della mia squadra saranno comandati dal computer. Quindi non saranno persone vere. Proviamo la prima missione. Mi metto questo, dai che è pelato. In questa prima missione dobbiamo raccogliere e andare a prendere dei rifornimenti. Ecco qua. Logicamente le ambientazioni sono tutte città un po' disastrate. Gli alieni sono dappertutto. Eccoci qua. Vedete questo è un piccolo paesino. Qua avevano fatto delle barricate forse proprio per resistere agli alieni ma non ha funzionato evidentemente. Ci sono le case dove si possono trovare power up, armi, cure. Ecco qua i primi alieni. Che ci attaccheranno senza sosta durante tutta la partita. Ci sono logicamente... No, un gatto di là. Vari tipi di alieni. Questi sono quelli più... Più stupidi però più numerosi insomma. Quello era di quelli un pelino più grandi. Più cattivelli. Poco cattivelli. Allora, prima di proseguire vediamo se... Ok. Qua si. Un altro alienazzo qua dietro. Non avevo caricato. Questo è di quelli un po' più grossi. Bravi. Allora, cosa troviamo qua? Cure. Questo è il macete, no? Però... Ah, ma mi lascia giù l'arma, no? Ah, lo teniamo alla pistola. Pensavo lo prendesse come seconda arma. Queste sono delle barriere che possiamo andare a mettere in posizione. Inizioni strategiche per proteggerci. Troppo tardi. Ok. Lasciano una nube di puzza elettrica quelli lì. È meglio evitare un attimo. Oh, ma doi. Ce n'è uno ferito dei miei. Hanno già rialzato loro, ok. Quando un nemico cade a terra bisogna andare a tirarlo su, insomma. Proseguiamo. C'erano un po' incastrati in questa piccola zona. Allora. Crepa. Ok. Sbudellato. Sbudellato. Vorrei trovare qualche altra... Oh. Qua non c'è... Là dentro. Che bel lancio che ho fatto. Crepate. E te? Oh, lì. Vi attaccarci alle spalle. Ma, 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 no, no. Aiutatemi, aiutatemi. Se trovassi un'arma un po' più seria, ancora. Dai, 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 dai. Liberatemi, liberatemi da sto scemo. Armi? Oh, un'arma un po' più seria. Un bel fucilazzo a pompa, ma... Questo mi ha vomitato addosso. Schifoso. L'hanno ucciso. Crepa. Minchia, come è esploso. Qua dovevamo barricarci, magari, prima. Eh, usiamo la cura. Ecco qua. Beh, insomma, non è che ho troppa... Vita, eh. Speriamo di trovare qualcosa. In giro. Non sprechiamo... Cerco di non sprecare i colpi del... Logicamente delle armi più potenti. Qua cosa c'è? Cure, cure. Ok, dai. Qualche cura qua. Ci voleva adesso. Ero proprio a secco. Qua. E non vi facciamo neanche entrare. Granate e doppia pistola. Carichiamo il pompa, teniamolo carico. Per sicurezza. Se arriva qualche ciccione. Mostro grosso. Qua ce n'è uno. Questo è piccolo. Crepa. Questo. Mostro esplosivo. Era ripieno di gas perché volava. Qua ce n'è uno grosso. Dov'è quello grosso? È scappato? Che crepa. 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 Allora qua. Ma guardate. Direi di far così. Abbiamo delle barriere qua. Mettiamone magari una qua. Ragazzi, coprite le spalle però. Sì, ma state vicini. State qua. State qua. Ma se uscite... Eh, vabbè. Giocare con... Con i personaggi degli A non è il massimo. Velo grosso. Velo grosso. Oh, come si è messo in una terra dei nostri. Vediamo se riuscite. Vediamo se riuscite. Vediamo se riuscite a soccorrerla. Ah, sì. Riusciamo a arrestarla. Finché non si muore tutti. Ah, per fortuna. Andiamo. Andiamo. Andiamo qua sopra. C'è una scaletta. Cure, 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 cure. Farei anche l'altra se non me la fregano. Ok, e mi prendo anche questo. Cambiamo un po' arma. Vediamo come va. Proseguiamo nella nostra missione. I miei compagni arrivano. Eh, c'è Maya che è un po' ferita. Ma se non troviamo cure. Qua cure. Uno me la tengo. L'altro se la useranno. Questi qua piccolini non consumo colpi del fucile. La useranno loro. Che succede? Uh, è quello. È morto o no? Oh, quello è duro, eh. Oh, cacchio. C'è le barriere. Crepa. Porca vacca, oh. È morto? Morto. No. Sembrava, eh. Non muore facilmente. Vai, vai vicino alle cose esplosive. Vai. Come sono messo a vita. Abbastanza. Allora. Così. Oh, copritemi, eh. Però me lo riprendo il fucile. No, mi ha fregato il fucile il tizio. Ma... Ah, no, no. L'arma. La pistola l'avevo lasciato giù. Dai, carica. Dov'è l'altra pistola? No. Eh, mi hanno fregato una pistola, però. Vabbò. Andiamo avanti. Proseguiamo. Siamo nella foresta. Ma c'è ancora... Ci hanno pensato loro. Beh. Oh, i ciccioni. I ciccioni esplosivi. Eh, che cavolo. Ci voleva un pompa qua. Sono quasi morto. Se cado, nel senso, ferito, dovrebbero venire ad aiutarmi i compari qua. Gli ultimi due colpi, cacchio. Dovremmo trovare delle altre armi. Vediamo da qua sopra cosa vedo. A parte le libellule. Andiamo. Vabbè. Finiamo i proiettili di sto fucile e troviamo delle degli altri. Oh, sti qua sarebbero serviti, però, eh. Eh. E adesso con la pistolina faccio poco, eh. Speriamo di trovare un'altra armetta per distruggere sti scaccabarozzi alieni, baccarozzi babosi. E che cavolo. E che cavolo. Sono messo ancora abbastanza bene. Se trovassi solo un'armetta. Vediamo qua. Allora, bisogna andare di là, però. Magari, qua nella paludine, nelle paludine fangose. Magari se trovassi... Ma ce l'ha un coso volante. Ok. Fatto fuori. Proseguiamo. Qua ci sarà un'arma. Magari in quel camion. Sì, c'è qualcosa. Anche delle cure. Wow, cure, cure, cure. Oh, lasciatemi un'arma, voi. Brutti balordi. Eh. Un altro medikit. Le bombe ce le ho. Un'altra pistola. Ah no, con queste si vede che sono diverse. Eh già, sì. Quindi non mi fa fare... Doppia... Doppia pistola. Non me le fa tenere. Oh cavoli, però. Granata. Eh, bruciate un po', va. Chi vuole degli alienetti arrostiti? Carne di alieno? Dove dobbiamo andare? Qua no. Probabilmente... Qua non c'è niente. Andiamo. Seguiamo il puntino blu. Non è un... Che cavole. Oh, ma doi. Questo è grosso, eh. E fa male. Ma ce l'ha con me, oh. Ragazzi, una mano. Questo ce l'ha con me. Oh, ma corre dietro solo a me. Eh no, eh. Che cavolo. Mi ha fatto male. Malissimo. Sono atterrato, atterrato. Aiutatemi, ragazzi. Parlo coi... Coi bot, parlo. Un altro down. Un altro giù. Maya, Maya. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Eh ma... Compagni, mi tirate su? C'era ancora qualcuno. Grazie, Maya. Oh, per fortuna. Dai. Beh, è divertente anche così... Diciamo... In modalità in singolo, non online. È carino, eh. Per quello non consumo. Questa pistola non ha i colpi illimitati. Oh, porca vacca. Ah, forse sì, sì, sì. Allora. Ok. Suppongo che... Dobbiamo andare di qua. Oh, cure. Una ce la teniamo, l'altra se la useranno loro. Ammo. Eh, ci voleva. Oh, no, l'arma mi tengo questa. Bravi, bravi. L'avete seccato voi prima di me. Epa, spudellati. Oh. Ho sceso quello che avevo appena avuto questo. Oh. E crepa. E crepa. E ricre... Oh, cavoli. Eeeh. Quanti. Ole. Ole. Oh, madòi. Dove dobbiamo andare qua? Dobbiamo aprire. Ok. Vediamo di sopravvivere. Arriveranno orde, orde di nemici. Sto finendo i colpi di questo fucilazzo. Da dietro. Venite dentro, venite dentro. Quasi finito i colpi. Ce la facciamo un po' così. Cos'è successo? Cos'è successo? Uno schifoso mi ha fatto esplodere. E' altro che stare dentro. Ma quanti? Ma anche là, quello grosso. preso. Aspettiamo che si dissolva la puzza. Il mostro scorreggione. Come sono messo? Cerco di curarmi se non arriva nessuno addosso, no? Andiamo, anche se pochi colpi di fucile, pochi colpi di fucile ma proseguiamo. Eh sì, sarà di qua la strada. Là in mezzo. A questi garage. Andiamo, andiamo. Divertente, eh? In quattro mani deve essere ancora più bello. Cos'è? C'è qualcosa di grosso. pure, ragazzi, pure. Vedete un attimo qua, oi? Anche se le barriere con... con i personaggi comandati dal computer non servono più di tanto perchè aprono loro. Andiamo. Allora, dobbiamo andare qui in mezzo e da dove entriamo, però? Ma... non è che era qua un passaggio, no? E dove sarà? Ma... non ho visto il passaggio. Non penso... sarà qua in qualcuno di questi garage. Qua no. Danny, cosa corri se ci sono mostri, no? Mettavamo due barrierine se tu avevi un po' di pazienza. Sa che arriva qualcosa di grosso? No. Maia, maia, terra. Non a terra, ma quasi. Ok, sei curata, maia. Io a cure sono messo bene, dai. Tanto non posso tenere anche questa. Per niente, l'ho fatto esplodere. Qua sopra? Perché salgono, però forse stando in alto siamo un po' più... Oh, ma ho vomitato! Salgono, salgono! Ma... ma... no, no! Questo scappa con me! Oh, oh, oh! Aiutatemi, ragazzi! Ma guardate questo... tronzone! Cosa sta facendo? Paura, paura! Devo mettere un attimo al riparo e cercare di curarmi. Munizioni. No, 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 no. Eh, se c'è anche Danny a terra. Siete un po' in tanti, eh, mostri. Qua la vedo brutta. Ecco, forse giocando con persone umane in questi casi si può più agire in maniera strategica. Magari piazzando le barriere e tutto. Adesso, vabbè, è successo così. Sono con i... i bot comandati dal computer. Secondo me online è proprio bello, è divertente. Non è, logicamente, contro altri giocatori, ma quattro giocatori contro i nemici. Bellissimo, eh? Che ne pensate? Scrivetemi se vi piace nei commenti. Ok, ragazzi, vi saluto al prossimo gameplay.